Meazzi recuperato, Valzania in dubbio, l'ex dell'imminente sfida con la Spal in programma venerdì alle ore 20.30 si è fermato a scopo precauzionale nella sessione di ieri pomeriggio per un lieve fastidio al flessore della coscia sinistra. Potrebbe trattarsi anche di semplice affaticamento. Questo pomeriggio ecografia sarà effettuata dal dottor Abate, poi si vedrà in preallarme De Marco Otuniov, altro ex. Spal prima a causa infortunio dell'esperto difensore centrale Basso di ex Pordenone. In dubbio El Caduri, reduce da uno stiramento muscolare, patito nel corso della sfida con il Milan Under 23 dello scorso 26 settembre. Partita fondamentale per gli estensi che hanno perso 5 delle 9 gare sin cui disputate. Fortemente in bilico il tecnico Andrea Dossena che sta meditando il cambio di modulo. Finora la spalla ha giocato sempre a 4. 4-3-3 a capobasso 4-2-4. Esperimento a conti fatti pessimo visto il risultato. 4-0 per i molisani. Ecco perché l'ex terzino di Udinese, Napoli e Liverpool, potrebbe optare per il 3-5-1-1. In questo caso probabilmente radrezza tra le linee alle spalle di uno tra Carlson e Antenucci. E il rientrante Buckel in cabina di regia. In difesa Brusca Gin, Arena e Sottini sulle fasce Calapai e Lex Mignanelli. Intanto il club ha deciso di sospendere il ritiro inizialmente previsto sino alla sfida col Pescara. Saranno circa 500 i tifosi biancazzurri al seguito della squadra di Baldini. Chiusura vendita settore ospiti domani alle ore 19.